E' andata letteralmente in lacrima e si è sciolta come le cascate del Niagara, le famose cascate americane per eccellenza, la bellissima e sempre sexy, nonché sempre verde, Belen Rodriguez, di recente ospite a canzone segreta. Perché vi starete chiedendo la bella e simpatica, nonché sempre sexy, sempre verde, Belen è andata a piangere o me ha scoppiato in lacrime a canzone segreta? Molto semplice, perché ha ricordato che purtroppo non può vedere più una persona, non posso più vedere una persona, una persona non c'è più, una persona purtroppo per me importante non la posso più vedere. Si scioglie quindi in lacrime e ovviamente rimane molto molto triste nel ricordare questo dolore forte, questo dolore segreto. Vi ricordo che questo programma così bello che si intitola Canzone segreta va in onda su Rai 1 ed è un programma che secondo me rievoca in maniera piacevole i ricordi profondi di un essere umano, di più esseri umani che decidono di parteciparvi. Questa è la mia opinione, sia ben chiaro. Bene, grazie a tutti i cari utenti di Youtube, insomma Belen si è sciolto in lacrime, in lacrime visibili, non sono lacrime di coccodrillo, questa è la mia opinione, sia ben chiaro, sono lacrime profonde che giungono, meglio partono dal cuore della bellissima e sempre sexy, nonché sempre verde, Belen Rodriguez. Iscrivetevi al canale di un narratore italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, un saluto caro e al prossimo video.